C'è stato un boom di prenotazioni nelle Marche all'apertura della fascia over 50, circa 7.200 persone si sono prenotate per il vaccino nella provincia di Pesaro Urbino in poco più di 6 ore, in 2 ore a livello regionale 27.000 prenotazioni. Questa mattina Pesaro al punto vaccinale dell'ex Ristò, gli over 50 però devono attendere perché va data la precedenza ai richiami per over 65 e over 70, circa 400 persone che oggi vengono vaccinate con il Pfizer per la seconda dose e ci sono anche diversi caregiver. Resta nella provincia di Pesaro una percentuale sostenuta di persone dal 30 al 50% che rinunciano al vaccino con AstraZeneca. Tutto bene? Bene, sì, tutto bene. Che vaccino ha fatto? Pfizer. Avrebbe fatto anche AstraZeneca? No. Sono over 65, 69 per l'esattezza. Finalmente il vaccino? Sono la seconda, il secondo quindi il richiamo. Che vaccino ha fatto? Pfizer. Hai detto tranquillo? Non ho avuto problemi, ma avrei fatto anche AstraZeneca. Questa mattina vaccino di richiamo anche per un noto sommelier della provincia di Pesaro, te Lorenzi, sentiamolo. Benissimo, io non ho sentito niente nella prima vaccinazione e nella seconda in questo momento. Vabbè, è passato solo un quarto d'ora, speriamo che durante questa settimana non succeda niente e andiamo avanti. Se non partono i ristoranti, la ristorazione e anche gli alberghi, beh, non c'è lavoro per nessuno. Speriamo il tempo mantenga e speriamo nelle zone bianche.